Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, modellazione 3D. Andiamo a leggere la motivazione insieme. Per essere un punto di riferimento all'avanguardia nella modellazione in 3D, per annoverare tra i propri clienti gruppi multinazionali e top player italiani ed essere partner tecnologico di strutture ospedaliere e museali di spicco, per la capacità di lavorare su progetti innovativi destinati a rivoluzionare interi settori. The winner is BILCOTEC. Io invito a raggiungermi sul palco, nel nostro studio, il titolare di BILCOTEC, Francesco Colonna, eccolo qui, a cui posso consegnare la mano. Grazie, grazie mille, grazie davvero. Francesco, puoi accomodarti perché voglio subito chiederti un commento a caldo, che cosa significa questo premio, questo riconoscimento per voi? È un importante premio, siamo molto molto contenti perché siamo un'azienda giovane e poter arrivare già a poter stringere realmente un premio del genere ci fa molto piacere, soprattutto in questo periodo. Esatto, stavo dicendo la stessa cosa, effettivamente stare al passo con i tempi in un momento in cui i tempi sono stati rivoluzionati, mi verrebbe da dire, è ancora più complicato. Assolutamente, devo dire che questo per vedere un lato positivo ci ha anche aiutato perché appunto la modellazione 3D e la stampa 3D ci hanno permesso un po' di aiutare, fare anche del bene e far conoscere forse un po' di più questo mondo un po' ancora nascosto. Che magari sarebbe rimasto ancora troppo di nicchia, invece in questo momento, ecco diciamo che si trova sempre il lato della nuova sfida, quando c'è l'emergenza, questa rappresenta una sfida per voi a questo punto? Sì, perché ovviamente era inaspettata, dovevamo essere pronti e cercare di fare tutto il possibile per dare una risposta concreta ai nostri clienti che hanno dovuto anche loro un attimo rivedere un po' le proprie produzioni e quant'altro. Abbiamo letto infatti nella motivazione la capacità di lavorare su progetti innovativi, dove chiaramente l'innovazione la fa da padrone in questo momento, destinata a rivoluzionare interi settori. Credi che ci sia e ci sarà un'accelerazione anche da questo punto di vista, cioè la rivoluzione nel settore vostro di riferimento, che cosa comporterà, cosa porterà con sé da questo momento in avanti? Porterà sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di poter ovviamente cercare con gli strumenti giusti, i software giusti e l'hardware giusto, di poter migliorare e portare qualcosa di innovativo, non solo nella produzione ma anche nella gestione vera e propria della produzione di tantissimi settori, perché in realtà possiamo applicare tutto questo ovunque, insomma, dove si può modellare e si può anche poi eventualmente stampare. Visto che io ci tengo sempre a chiedervi, visto che parliamo di eccellenze italiane, di esempi, di fari da seguire, qualcosa rispetto al futuro e visto che stiamo parlando di un settore che evidentemente andrà a incidere sul futuro più prossimo, come lo vedi tu il futuro? Come lo vedete voi come team? Noi diciamo che più che vederlo stiamo cercando di costruirlo, perché la stampa 3D come la modellazione 3D sono, come dicevamo un po' all'inizio, ancora qualcosa di nicchia, soprattutto si pensa ancora che sia qualcosa di altamente costoso e poco accessibile. In realtà non è più così da parecchio tempo e quindi, insomma, oltre che ovviamente a vendere, cercare di fare fatturato, che è un po' la base di ogni azienda, quello su cui noi puntiamo tanto, grazie anche poi, e questo devo dirlo, ai nostri clienti, i primi nostri clienti che ci hanno permesso anche di formarci e trovare anche nuovi mercati su cui puntare, stiamo cercando proprio di formare le nuove generazioni nei vari settori dove riusciamo un po' a entrare con i nostri prodotti, i nostri servizi, le nostre consulenze, perché è da lì che poi parte tutto, quindi un cambio generazionale che permetterà alla modellazione, alla stampa 3D ovviamente di essere ancora più forte nel futuro ed essere ancora più utilizzata. Che poi in conclusione Francesco io ci tengo a dire un'altra cosa, perché sennò sembra quasi che stiamo dicendo tutto va bene, che bello, questa emergenza che ci ha portato a nuove sfide, nuove avventure, non è così nel senso che siamo consapevoli, credo, la giro come domanda a te, di quello che è successo, quindi anche della situazione pesante, a parte che l'hai detto anche tu, nonostante il periodo, però cercando sempre di far tesoro di quello che ci accade ed essere pronti a cavalcare l'onda, che in questo caso è un'onda negativa chiaramente, che però magari ci può portare da qualche altra parte che non avevamo considerato prima. Esattamente, esattamente, per esempio appunto tutta la parte medicale, aver potuto aiutare anche ospedali ci ha permesso di capire le esigenze che ci sono e soprattutto anche adesso poter continuare i rapporti nati qualche mese fa purtroppo per circostanze non magnifiche, ma adesso ovviamente dopo che il mondo, posso dire, perché obiettivamente è un problema un po' di tutti i paesi, anche gli ospedali hanno visto la potenza di quello che è la modellazione e la stampa 3D e quindi stiamo portando avanti dei progetti interessanti tutti insieme perché hanno un po' aperto gli occhi, purtroppo si sperava non in questa maniera, però obiettivamente si spera di poter essere ancora più pronti se dovesse succedere qualcos'altro, speriamo di no, ma ormai veramente non si può più dire. Grazie, grazie mille. Bilkotech grazie a Francesco Colonna titolare, ora questo lo ripetete e pure questo è tutto con me. Grazie mille. E naturalmente in quanto eccellenza dell'anno fai i complimenti a tutto il tuo team. Assolutamente, infatti se posso ancora dire due parole volevo proprio ringraziare tutto il team che mi ha supportato da qui a quando siamo nati, i miei clienti come dicevo che sono stati fondamentali per farci crescere tantissimo perché noi siamo nati un po' per diverse, diciamo per altre categorie e soprattutto i miei familiari, i miei parenti che mi hanno sempre sostenuto. E quella è la prima cosa, assolutamente sono d'accordissimo. Grazie ancora Francesco Colonna. Grazie a voi davvero, grazie, grazie mille.